Buonasera, benvenuti alla seconda puntata di Enne come neve. Cominciamo a parlare subito di sci di fondo. Abbiamo ospiti un vice campione olimpico che si chiama Fabio Mai e il suo presidente che si chiama Andrea Giudici. Benvenuti. Buonasera. Sono qui perché? Perché Fabio Mai organizza, meglio, lo sci club, Scilpario, organizza i campionati regionali di fondo il giorno 4. Dico bene? Il giorno 3, sabato, e il giorno 4, domenica, ci sarà comunque la gara della provincia di Bergamo e del nostro sci club. L'amicizia con Fabio Mai mi permette di giocare un po' su queste domande. Per esempio, dico, un bel coraggio ad affidarti l'organizzazione dei regionali. Questo è già un bel coraggio. Poi, sei il responsabile dello staff tecnico del fondo regionale Alpi Centrali, quindi qui siamo all'inizio della fine. Ma sì, forse hai ragione, e anche forse per quello che lo sci di fondo non va più avanti. Però, a parte gli scherzi, a parte quello, vabbè, per quanto riguarda i campionati regionali, comunque io alla fine non è che faccio molto. C'è dietro tutto lo staff dello sci club. Solo per i campionati regionali non fai molto. No, vabbè, per il comitato già, allora devo sbattermi un po' di più, devo comunque andare in giro, seguire un po' i ragazzi, cercare di fare un po' anche lo psicologo, soprattutto in certe occasioni. Quindi ho imparato a essere un po' più diplomatico, magari di prima, comunque, vabbè, la cosa mi piace. Andrea Giudici è il presidente allo Sciglap Schilpario da un paio d'anni? Due anni. Arriva dopo Mario Grassi, classe 1949, dopo Giacomo Antonio Pizio, un altro presidente storico. Come ti trovi in testa a questo gruppo che Tremare il mondo fa? Non è facile, perché sono entrato, diciamo così, per gioco. Pensavo che fosse una cosa più semplice, invece mi sono trovato, diciamo, un po' una cosa un po' più seria, anche più da gestire, gare che sono sempre più complicate da organizzare e poi, come hai detto tu, avere a che fare con certi campioni è ancora più dura, perché pensi di organizzare una gara in un certo modo, loro subito ti dicono, no, guarda che devi fare così, piuttosto che... E poi noi di Schilpario facciamo quello che abbiamo voglia, tu sai, noi di Schilpario. Esatto. Tu col fondo cosa c'entri? Vieni dal fondo? Io diciamo che ho sempre fatto fondo fin da bambino, poi a 16-17 anni ho cominciato a fare qualche garetta, faccio soprattutto gare lunghe distanze, sono appassionato di sci di fondo, faccio gare lunghe distanze, ho fatto la Vasa Loppe, Birkbeiner... Le gare che fanno quelli che hanno buon tempo, perché chi lavora non fa queste gare qui. Fabio Mai, con lui, visto che è nato nel 1970 e io un po' di anni prima, potrei raccontarvela e suonarvela noi due insieme fino a dopo Ferragosto, però parliamo delle gare. Ci racconti cosa succede sabato e ci racconti cosa succede domenica. All'inizio sabato ci sarà una gara a scheting, a cronometro a scheting, che vale per il titolo di campione regionale. Mentre domenica ci sarà la classica gara dello Schilpario, che organizza lo Schilpario, che è in tecnica classica per tutte le categorie, mentre sabato è solamente dedicata alla categoria dei ragazzi allievi, giovani e senior. La domenica è aperta a tutti, dai piccolini in avanti, sarà in tecnica classica. E per quanto riguarda le categorie dai ragazzi in avanti, i ragazzi allievi, giovani e senior, ci sarà un esperimento, una nuova formula di gare dove questi ragazzi... Ma non ce la siamo inventata noi. In pratica sai che quando ci sono degli esperimenti di fare in provincia di Bergamo, tocca sempre allo Schilpario fare questi esperimenti qua. A noi, esatto, di Schilpario e all'inizio brontoliamo sempre un po', poi alla fine ci tocca provare a fare questa cosa. Andrea, la pista, come è messa? Come sta? La pista, dobbiamo dire che quest'anno, grazie ai gestori della pista, già dai primi di dicembre avevamo tre chilometri e mezzo di neve artificiale, in nevata proprio molto bene da Gianfranco, suo figlio e tutta la gestione della pista. Poi un po' di neve nevicata, poi Schilpario sappiamo che è un posto che di solito nevica sempre. Abbiamo un anello di 12 chilometri adesso. Siamo riusciti comunque a fare un anello di 4 chilometri per le due gare di sabato e di domenica, lasciando quindi tutta la pineta, tutti gli 8-9 chilometri, anche per l'appassionato che vuole comunque venire a sciare, anche se ci sono le gare. Allora, io francamente, Fabio, non t'avrei mai pensato in testa a un'organizzazione tecnica in ambito Alpi Centrali e ancora di meno in ambito nazionale, ma no perché non sei capace, solo che tu sei giochi di contropiede, mentre gli altri quando faticano, e questo è un leitmotiv, mettono giù un muso, tu hai sempre riso, sempre riso. No, allora non è una cosa che ho cercato io, diciamo così. È una cosa che mi sono trovato addosso, tra virgolette. È una proposta a cui non ho potuto rifiutare, ho dovuto dire di sì, perché c'era questa necessità di un tecnico, visto che per non fare nomi il nostro amico Renato Pazzini aveva abbandonato per suoi motivi personali, e di conseguenza c'era bisogno di un'altra figura nella provincia di Bergamo che lo sostituisse, e di conseguenza sono entrato in campo io. Una domanda tecnica, ma che razza di tecnico sei? Che tipo di tecnico sei? Proviamo a fare uno skill, le tue caratteristiche da tecnico. Eh, questa è una domanda, non ce l'hai quella riserva, perché è abbastanza difficile, dovresti chiedere ai ragazzi. A me sinceramente sembra di essere un tecnico abbastanza buono, esatto, soft, con i ragazzi ci parlo, cerco di capire un po' quello che hanno bisogno, se hanno dei problemi. Non insisto più di tanto, Memore, ricordandomi un po' delle cose che non piacevano a me, e quindi lo so che bisogna fare certe cose, però non mi piacevano a me, e allora non insisto più di tanto, so che bisogna farle, e glielo dico, guarda ragazzi, dobbiamo fare queste cose, però ecco non sono proprio così pressante. Scorrono intanto le immagini sviluppate domenica scorsa, o realizzate domenica scorsa, oltre il colle, dove il circuito faceva tappa. La domanda classica, solita è, come va e come sta Valentina Mai? Valentina Mai è la sua bimbetta, che poi adesso è una signorina, come va? Sì, ormai è una signorina, sì, ma va anche bene, anche se ultimamente, o meglio, le ultime gare che abbiamo fatto il tour de ski in Valtellina, giusto questo weekend scorso, ci aspettavamo qualcosina di più, specialmente lei si aspettava qualcosa di più. Alla fine è andata bene, comunque è arrivata a sesta, ma non benissimo, insomma, ecco, speriamo nelle prossime gare. Andrea, cosa ti aspetti a Schilpario in questo fine settimana, come gente, come Scalvini che arrivano sulla pista degli Aveti, come Bergamaschi e come Sciclub che vengono in giro, cosa ti aspetti? Io sono sicuro che gli Sciclub sicuramente ci saranno quasi tutti, anche Valtellina, Livigno, ci hanno confermato che verranno anche loro, spero, sono quasi convinto che ci sia un po' di gente a vedere, perché ho visto che ultimamente le gare di fondo stanno perdendo, stanno perdendo un po' di appeal, di interesse. Stanno perdendo l'interesse di chi sta lì a guardare, ma non dico la persona di Bergamo che deve venire a Schilpario della gara, ma proprio anche lo Scalvino o piuttosto di quello di Clusone, che una volta facevano una gara, li vedevi tutti per il tracciato della pista. Adesso vedi quattro allenatori, quattro genitori, proprio ancora di quelli di una volta e poi vedi pochissima gente. C'è da dire, Andrea, che una volta correvano Fabio Mai, Fabio Santos, Renato Pasini, poi correva della gente che veniva da fuori che andava. Adesso devo dirlo, mio malgrado, nostro malgrado, perché anch'io vengo dal fondo che la gente che va l'aspettiamo. Perché lui per esempio ne aveva uno che si chiama Batteri, che sembrava che andasse, e poi Batteri non sta rendendo come... Poi abbiamo perso l'astro nascente che è Emil Lussana, e quella è una grandissima perdita per tutti, l'abbiamo trovato come pizzaiolo però. Ma sentiamo la tua ricetta, perché andiamo più ad aso? Perché siamo di meno? Non lo so, è una domanda difficile questa, non lo so, non so dirtelo. I numeri continuano a calare, è qualcosa, probabilmente è un po' anche colpa nostra, un po' è colpa di tutto il sistema, un po' tutti avranno le loro colpe sicuramente. Ripeto, non lo so, non ne ho idea. Se io penso che lì dentro ho degli amici, che adesso sono invecchiati come me, che comunque con i loro caratteri, ne cito due per tutti, Beppe Barzasi, che ve lo raccomando, ma che comunque ha fatto molto per il fondo, clusonese non solo, perché è stato una persona interessante, Bruno Bonetti, e questo parlo di uno di Clusone e di uno di Gromo. Adesso dei personaggi, rispetto ovviamente tutto quello che fanno gli altri, ma dei personaggi così carismatici, noi ci stiamo aspettando, ci stiamo aspettando te, la settimana scorsa c'era Fabio Santos, ci stiamo aspettando un colpo di reni perché francamente anche in questa squadra dei giovani e io mi faccio dei nemici, francamente io dei Fabio Mai in potenza o dei Fabio Santos in potenza o dei Nato Pasini in potenza non ne ho visto. Sì, al momento il grande o proprio il ragazzo che può forse diventare un campione a Bergamo è difficile anche per me trovarlo, anche se abbiamo dei buoni atleti. Speriamo, visto che mi chiedi queste cose qua, speriamo che sia la Martina la prossima che arriva, visto che anche oggi, in questi giorni, ai Mondiali Junior è arrivata giusto settima nella sua gara individuale, quindi è un gran bel risultato. Aspettiamo Marti perché ieri era Santa Martina, ha portato a casa un settimo posto, le facciamo un plauso, ma è lei che porta il fondo bergamasco in Italia e nel mondo, nessun altro. In questo momento è la più titolata a far crescere o comunque ad aiutare tutti noi dell'ambiente a far crescere questo movimento, perché comunque è vero che se c'è il personaggio vincente dietro si crea un movimento e anche i bambini e tutto il resto va a traino di questo personaggio che deve essere vincente. Io mi ricordo che quando tu nascevi nel 70, un certo Giulio Capitanio che guarda a caso è tuo zio, strabatteva quasi tutti, quindi abbatteva Aldo Fauner, quindi il fratello di Silvio Fauner ai campionati italiani giovanili a Schilpario, tu non eri ancora. Come ricordo anni dopo, nell'87 campionati regionali spessa di Clusone, Lazzaroni, Capitanio, mai, 17, 18, 18 anni, mi sbaglio? E lì sono arrivati dietro i vecchi, è arrivato dietro Charlie Bianzina, Ermano Carrara e lì avete veramente fatto vedere di che pasta eravate fatti. Non li vedo più. Ti dico un'altra cosa e qui mi faccio un nemico che si chiama Fausto Denti. Trovare il presidente della Federazione Italiana Sport Invernale di Sezione Bergamo a responsabile del fondo la cosa mi fa pensare male, ma male, ma male davvero. E Fausto è un amico, perché vuol dire andare a supplire un posto che è vuoto. Che ne dici Andrea? Ti metto un po' in difficoltà. È vero. Fausto viene dalla discesa, come tutti sapranno, viene dalla discesa, però io sono un uientri, però mi sono accorto che Fausto anche per il fondo ci sta mettendo l'anima, ci sta dando tutto per portare avanti il fondo nella Bergamasca. Anche lui, purtroppo anche lui, continua a dirci, i ragazzi sono da solo, bisogna che qualcuno venga a Bergamo a rappresentare il fondo. Però ne abbiamo parlato già anche in varie riunioni, ne abbiamo parlato, però momentaneamente nessuno si è fatto avanti a dire, vabbè, ascolta, ti affianco io, vengo io. Non potete mandare giù ancora il mio che ho scritto Mario Grassi, perché è del 1949. Perché no, è in pensione. Però è in su tanto Schippario, ci hai presente tu? Sì. Poi potresti mandare giù l'Ilario, c'è ancora l'Ilario? L'Ilario è il pilastro portante dello Ciclado. Come vedete stiamo scherzando, ma è normale, dobbiamo metterci un po' di ironia in sta cosa qui. Ma non è possibile che il fondo che ha Fucina, Schilpario, Clusone, Gromo e ovviamente Roncobello e oltre il Colle vada a farsi rappresentare da Fausto Denti, che spesso è qui, su questa sedia qui, e magari se mi sente mi maledice. Torniamo a bomba sui campionati. Il sole l'avete prenotato o no? È tutto a posto. Ci sarà il sole. Quando uno come te mi dice tutto a posto io mi preoccupo. Io mi preoccupo. No, fidati, fidati che questa volta è tutto a posto. Avremo anche la neve fresca giovedì, una spruzzatina, tutto regolare. Vedete che lui è uno che, io ricordo una volta, un anno a Schilpario, un anno a Schilpario lui era secondo ai campionati militari di Schilpario, è partito, era in recupero, pensavo bruciasse gli attacchi. Tu non ti ricordi più perché sei vecchio, ma io me lo ricordo ancora. E fu un'edizione fantastica. Dovremmo pensare di fare a Schilpario un centro federale del fondo, si vociferano tante cose, ma poi, verba volant, il fondo non lo fanno. Andrea, come ti trovi con questi scalvini qui? L'Elia c'è ancora dentro o no? L'Elia c'è ancora anche l'Elia. Tutti, eh? Ci sono ancora tutti. Immarcescibili, perché non è una parolaccia immarcescibili. Immarcescibili. Sono gli, diciamo, le colonne portanti, anche se ci sono anche gli altri giovani, ci sono anche gente più giovane, ma devo dire che comunque il nostro Sciclub organizzativamente quando c'è bisogno di dare una mano per preparare, per sistemare manovalanza, basta un passaparola, due squilli di telefono, non ci sono problemi. Già per dirti domani pomeriggio saremo già in campo per preparare per sabato e domenica. Se penso ai nomi belli che tu non hai conosciuto, no? Clementi, la casa, gente che faceva tremare i polsi anche ai valdostani e ai trentini, no? Poi ovviamente super Giulio, poi è arrivato lui, lui però non si è tirato dietro per adesso nessuno, no? Probabilmente gli hanno... Ti fai insegnare? Non mi seguono? Eh? Non mi seguono? Ah, non ti seguono. Non mi seguono? Ebbè sei solo il responsabile dell'Alpi. Allora, l'appuntamento, uno degli appuntamenti, perché sono tre gli appuntamenti importanti, scisticamente parlando di domenica, sabato e domenica. Il primo l'abbiamo presentato con Andrea Giudici che è di Vilma Zore e con Fabio Mai che è il responsabile, ai noi. È il responsabile Alpi centrali ed è un amico e vedete come la prende sempre sorridendo. Quindi appuntamento a Schilpario se volete vedere il fondo di quelli veri. Intanto io vi saluto, vi ringrazio, buon ritorno su In Valle. Ciao. Grazie. Torno a Bergamo, il campionato nazionale di slalom degli alpini, 52esima edizione. Una gara importante che si svolge domenica, ma c'è un contorno, perché figuriamoci se gli alpini, il corpo più amato, la gente più amata della nostra zona, non ci mette un contorno di loro. A presentarla ci sono Andrea Bianchi, benvenuto. Buonasera. Andrea Bianchi è di Son Gavazzo, è il capogruppo della zona 17, me lo sono letto prima. E poi c'è Davide Cattaneo. Davide, tu sei il responsabile di che cosa? Dello sport, della sezione di Bergamo, che coordina tutte le manifestazioni sportive. Ah, ma ho capito perché sei tu, perché Maccalli, che è il presidente zonale, ha scelto uno di vertola come te. Ma questa è una battuta. Allora, Carlo Maccalli, che vedremo con la sua penna bianca domenica. Se, tre, quattro febbraio, Montepora. Una gara importantissima per gli alpini. Sì, una gara importantissima perché è un campionato italiano, campionato italiano che prende tutti gli atleti naturalmente alpini e anche aggregati, amici degli alpini, ma questi alpini, la maggior parte, escono da gruppi sportivi, gruppi militari, gruppo sportivo a osta, della tridentina, gente che ha anche... Nel punteggio FIS. Punteggio FIS e ha partecipato a gare nazionali, internazionali, FIS. Per cui abbiamo sempre tenuto alto come alpini un aspetto sciistico, professionistico. Andrea, senza nulla togliere un alpino con l'annellino all'orecchio... Due annellini. Ha due annellini, complimenti comunque, pura da nessuno. Quanto avete impiegato voi della zona 17 a organizzare questa gara? Perché pesa sulle vostre spalle. Assolutamente, abbiamo iniziato a lavorare per questa manifestazione all'incirca a settembre e all'incirca su due o tre volte mensili ci siamo ritrovati, ci siamo divisi i compiti, abbiamo innanzitutto capito cosa serviva, cosa dovevamo fare e in base anche alle capacità dei gruppi, in base anche alla logistica del gruppo stesso, abbiamo diviso in settori... In cose da fare. Esatto, in cose da fare, quello che era il campionato e adesso sabato e domenica vedremo poi i frutti, i risultati. Faccio un po' di storia di questo campionato, ma lo faccio alla Bergamasca. Primo di tutto, il recordman dei campionati è Francesco Santos, che era qui la settimana scorsa, il figlio del Paccio che fu il primo, Modesto Santos, il primo vincitore dei campionati. Poi ha vinto Stefano Bellinghieri, ha vinto Efrem Merelli, vedi che mi sono documentato, li so quasi tutti. Cosa fate poi sabato e domenica? Perché avete una brochure così ricca e così ricca, la vedete qui, la potete trovare un po' dappertutto nella nostra zona. Cosa fate sabato e domenica? Allora, sabato è una giornata improntata su quello che è la memoria, perché ricordiamoci che siamo alpini, lo ricordiamo con lo sport, però sabato sarà un giorno dedicato per l'appunto alla memoria con una sfilata che faremo a Dorga. Parte da Bratto, mi pare, poi arriva a Bratto. Parte da Bratto e arriva a Dorga, partendo dalla via Locatelli, poi per la sfilata, arrivando fino alla chiesa di Dorga. Saranno presenti... Il vostro presidente nazionale, mi scuso, ma il vostro presidente nazionale, Fabro dice per non dimenticare. Per non dimenticare. Dobbiamo ricordarci che siamo nel 2018, il 2018 è il centenario della fine di questa grande guerra, che sia stata una tragedia, dove ricordiamo anche solo gli alpini, e questi solo gli alpini del gruppo Presolana, della Presolana, che ben 46 alpini erano morti, e il parroco, da buon parroco e da Danimo Buono, quest'anno ha fatto suonare 46 schiocchi di campana, per ricordare il centenario. Allora, manifestazione, ci saranno presenti tutte le autorità, autorità che intendiamo, sia autorità politiche, il sindaco, e soprattutto consiglieri nazionali, e probabilmente anche il presidente Fabro. Addirittura? Addirittura il presidente Fabro. Domenica. Domenica andiamo al Pora, ci troviamo presto, ci dividiamo in due categorie, mi spieghi categoria A, visto che ho citato che mi hanno eletto stasera, speaker dalle manifestazioni, e io lì sono un po' rugginito, cosa fa se categoria A e categoria B, come mai? Allora, più che categoria A, categoria B, abbiamo due percorsi, un percorso che è valevole per il campionato nazionale, che verrà fatto sulla Coppa Europa, al Monte Porra, nella pista Coppa Europa, e da lì, diciamo che fino a una certa età, praticamente fino a 55 anni, parteciperanno per la competizione del campionato nazionale, perché è una gara di tutto rispetto a un percorso da campionato italiano, a tutti gli effetti. E questa è, diciamo, la pista B, diciamo, è stata, è fatta per categorie che comunque dai 60 anni in poi e addirittura abbiamo iscritti fino a oltre gli 85 anni, quindi pionieri, pionieri, fino alla categoria B12, per cui c'è gente ancora da altri tempi, famosi alpini da altri tempi, che partecipano e naturalmente devono fare anche un percorso più alle loro possibilità. Questa è la differenza. Tu quello sci, come sei messo, Andrea? Abbastanza male. Perché pare che ti vogliono far fare la prepista come capogruppo della zona 17. Beh, se vogliono già togliere le porte prima di far iniziare la gara, parto io per primo. Assolutamente sì. Tu come sei messo, invece? Allora, non male, nel senso che ho sempre gareggiato da giovane, adesso ho sempre gareggiato i miei figli, poi la tradizione ho un padre e una madre che hanno 85 anni e corrono tuttora. Davvero? Sì, fanno i master, adesso per un anno o due che non gli danno più la visita medica per cui si sono fermati, ma tutti i giorni sono a sciare, per cui è una passione proprio familiare. Zona 17 va bene, ma quando si muovono gli Alpini non ci sono più le zone, si muovono un po' tutti perché sentivo Mauro Bonadei che è il capogruppo di Crusone che anche loro sono mobilitati per questa manifestazione. Assolutamente, per evitare di fare brutte figure ci serve l'aiuto di tutti. Il capofila senz'altro è comunque il gruppo Presolana perché sono loro che ospitano la manifestazione, però alle loro spalle c'è tutta la zona 17 e nonostante ci siano stati dei cambiamenti anche a livello di capogruppi c'è sempre stata molta armonia fra i gruppi della zona 17. Demetrio Marinoni c'è ancora? Demetrio Marinoni c'è nelle manifestazioni più importanti e comunque sempre lo ricordiamo, lo ringraziamo per quello che ha fatto, per quello che ha rappresentato per la zona 17 perché ricordiamo che è stato lui 25 anni fa a voler fortemente questo intergruppo che noi portiamo avanti da 25 anni quindi Vanni Stabellini c'è ancora anche lui Vanni Stabellini c'è ancora anche lui lui è il presidente del Trofeo Sora quest'anno si ricandida come consigliere sezionale e se verrà votato ritornerà a Bergamo pronto a dare ancora il suo contributo. Cosa vi aspettate? Cominciamo da lui che è un pochettino più, meno giovane cosa vi aspettate da queste due giorni? Dalla gente dalla gente delle nostre zone? Allora più che ci aspettiamo vorremmo dare addirittura rovesciamo la piramide vorrei rovesciare la piramide nel senso che far vedere comunque che gli alpini con la loro organizzazione e qui c'è la zona 17 ma anche la sezione di Bergamo che ha collaborato non poco vorremmo far vedere quello che sono ancora un aspetto di ordine un aspetto di disciplina un aspetto sportivo un aspetto di alpini che vorremmo trasmettere un po' ai nostri figli un aspetto di rispetto per l'Italia non voglio fare il bacchettone ma ordine di disciplina mi piacerebbe che lo condividessimo tutti tutti cominciando dal sottoscritto ricordo poi che Castione ha avuto Caprioli che è stato il presidente nazionale fra i suoi iscritti e poi in tempi abbastanza recente Bergamo ha perso Carobbio che è un altro nome significativo ma poi al di là dei nomi al di là delle cariche gli alpini quando sono in congedo si alzerano tutti o mi sbaglio siete tutti uguali o mi sbaglio è vero non esistono gradi non esistono più gradi esiste l'alpino con il suo modo di fare il suo rispetto e quella volontà che quella volontà che ha per gli altri ecco questo è un po' lo spirito che anima anche e ci dà soddisfazione perché parliamoci chiaro è bello è bello dare ma si riceve anche tanto io sono stato a due tre manifestazioni alpini io non sono alpino sono figlio di un alpino e direi che una volta almeno tutti dovremmo andare a un'altra agli alpini perché è qualcosa di incredibile di indescrivibile dove tutti magari complici anche un calicino di più diventano amici non ho mai visto una discussione ho visto gente andare a letto tardi però questo spirito qui sembra trasmesso come un fil rouge tra tutti voi però lassù andiamo a gareggiare ma chi vince quest'anno bella la domanda bella la domanda allora devo essere obiettivo l'anno scorso dopo ben quasi 40 anni che Bergamo vinceva il trofeo Scaramuzza che è un po' la coppa del mondo degli alpini è stata vinta per pochissimi punti per 23 punti dalla Valtellina perché la Valtellina essendo si aveva due sezioni si è unificata è diventata un bel gruppo naturalmente di stile montano per cui ha fatto competizione su quasi 10.000 punti per 23 punti ha vinto la Valtellina Davide ma tu sei anche il commissario tecnico della squadra o c'è qualcuno che sceglie per te? allora cioè se un alpino qualsiasi punteggiato vuol venire a correre deve confrontarsi con te o si iscrive di suo? ci si confronta perché giustamente un minimo di strategia e abbiamo agonismo e un minimo di strategia nelle singole nelle singole categorie va fatta va fatta e abbiamo comunque un nostro mitico che è il Dino Perolari addirittura è ben 87 anni però è un mago diciamo anche della strategia che conosce i cinquantenni fin da già da bambini per cui tutta la gente che è cresciuta come alpino nei 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 club e così è sempre stata reclutata dal buon Dino oggi anzi sono ben sei anni che ho preso questa eredità e sto anche ai consigli del Dino e pian pianino costruiamo una strategia anche per fare le categorie perché sono ben sette campionati italiani che andiamo a fare non uno solo vi conto un aneddoto che neanche loro sanno Dino Perolari è figlio del Cavalier Francesco Perolari che nel lontano 1900 e fischia fu il primo a importare dalla Norvegia gli sci e da buon imprenditore faceva fazzoletti e biancheria intima intitolò la sua ditta così schiatore lui era di Ponte Nossa ed era fratello di mia nonna quindi ritrovare Dino Perolari per me che neanche ci conosciamo io ho grande stima di lui come nome sarà un piacere la gente ci sarà ci sarà il sole che dovrebbe esserci perché non può non esserci ed è preludio questa un'altra manifestazione importante che si chiama Trofeo Gennaro Sora staffetta alpina quindi pianura salita discesa che è fissato ancora al Pora no agli spiazzi agli spiazzi di Boari sede naturale degli spiazzi con la pista di fondo che sappiamo la salita e poi una bellissima discesa sulla Orsini che se ti tremano le gambe col muro ti tremano ancora di più mi sbaglio? bravissimo tanto più che è stato rinnovato il Sora dall'esperienza che era stata fatta al Pora invertendo le varie discipline l'ha reso più vitale e sinceramente anche nei gruppi alpini nelle sezioni alpine in giro per l'Italia è stata è stata messa come gara una delle gare più originali simpatiche ma anche forti Davide noi vedremo qui anche gli alpini in armi o saranno soltanto gli alpini in congedo? no ci saranno anche alpini in armi e avremo la conferma entro giovedì però sicuramente una nostra alpina che è la Marta Benzoni sarà presente come teofora e oltre come teofora correrà come esercito davvero? sì poi al solo ci dovrebbe anche essere Melissa Gorra perché è un alpino Melissa Gorra dovrebbe esserci un alpino qui ci ritroviamo ancora tu se non vinci lo scaramuzza quest'anno c'è voce che ti portano via ti cambia l'allenatore cambia l'allenatore ti licenzio ti licenzio ti licenzio allora al di là di tutto domenica sabato prima e poi domenica prima a Bratto e a Dorga ma poi dovremmo essere tutti lassù a vederli perché è uno spettacolo sempre perché sono ordinati anche quelli che hanno un po' di pancia tirano dentro durante le sfilate e poi domenica domenica alpora dove ci sarà questa 52esima edizione del campionato nazionale ti aspetti qualcosa in particolare tu? ma il tuo posto è confermato quindi zona 17 rimani comunque lì anche se non vincete lo scaramuzza non credo che mi licenzino perché non vinciamo lo scaramuzza comunque cosa mi aspetto sarà un bel due giorni a parte impegnativi da tutti i punti di vista io mi aspetto anche tanta gente ma spero che ci sia anche tanta gioventù perché comunque non è la tra virgolette classica sfilata degli alpini dove comunque c'è la messa dove comunque se non sei del corpo magari non ti interessa più di tanto questa è una giornata di sport e sì una giornata degli alpini ma anche una giornata anche di divisione di stare insieme con gente anche che viene da da Firenze con gente che viene anche da abbastanza lontano quindi ecco mi aspetto che oltre ai soliti volti che si vedono alle nostre manifestazioni di vedere anche qualche ragazzo per avvicinarlo poi al nostro mondo noi speriamo che vincano gli alpini vestiti da sportivi o gli sportivi vestiti da alpini la simpatia che nutriamo è storica ma credo che sia la simpatia di tutti quanti grazie intanto grazie a lei se posso le devo ricordare che oltre alla manifestazione abbiamo organizzato una serata dedicata presso il Cinemateatro Cristallo Cristallo di Castione della Presolana dedicata al centenario dove saranno presenti i cori e i filmati della prima guerra mondiale per cui tutte le famiglie questo sabato questo sabato sera alle 8 e 30 quindi Cristallo di Castione quindi deviazione per la chiesa parrocchiale di Castione per vedere anche questa 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 manifestazione da loro messa in onda in bocca al lupo grazie 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 un'altra manifestazione importante perché qui a grade di importanza a grade di importanza è difficile la Ski Alp 3 si sviluppa sul tono al massiccio della presolana andava a presentarla questa sera tre persone due presidenti addirittura Battista Giudici presidente dello ciclate di Clusone che insieme al CAI di Clusone meglio adesso mettiamo le gerarchie giuste se no il CAI di Clusone insieme al 13 ma non so e Claudio Ranza che è l'altro presidente e poi il direttore di gara che è Rino Calegari che lo Ski Alp 3 una volta rally della presolana ce l'ha dentro il sangue cominciamo da chi cominciamo dal direttore di gara che Ski Alp sarà sicuramente sarà una Ski Alp molto tecnica nervosa perché abbiamo parecchi cambi di assetto nel percorso abbiamo dovuto un po' rivederlo perché il vento degli ultimi giorni ci ha un po' spazzato le creste e quindi abbiamo dovuto tagliare il Ferrante che è una cosa che ci rincresce molto però sicuramente domani saremo in ricognizione ancora per trovare un'alternativa tecnica equivalente più o meno sulla falsa riga del Ferrante e sarà un percorso sicuramente che darà modo a tutti di sfogarsi nel miglior modo allora Claudio Ranza è di Fino Dal Monte fa tante cose e Reduce della Corea abbiamo spostato la trasmissione per colpa sua perché era in Corea e non voleva ritornare Claudio Ranza però domenica farà un ruolo svolgerà un ruolo particolare Presidente cosa farai domenica tu? diciamo che coordino assieme a due amici fotografi le riprese video e le fotografie della gara per noi sarà già un successo se ci sarai tu Battista perché per le gare in cui non sei il capo di tutto tirarti alla gara è difficile ci sarai tu o vai da un'altra parte domenica ci sarò ho promesso che ci sono tutto il giorno gli ho dato disponibilità che mi mettano con la bandierina come si faceva una volta qualche passaggio non ci crede nessuno o se no alla peggio al Bimbrillet dove ci sono delle miss è difficile Rino dire chi c'è adesso al cancelletto di partenza ma noi ci aspettiamo visto che pare non ci siano gare concomitanti di livello è vero non ci sono gare in concomitanza abbiamo scelto questa data apposta e ringraziamo la fisica che ce l'ha segnata sarà un buon test per gli atleti anche di prima fascia perché domenica successiva o meglio il giovedì successivo ci sarà una gara di Coppa del Mondo scorrono intanto delle immagini meravigliose di quando sono? nel 2013 l'anno in cui abbiamo avuto la Coppa del Mondo che è il Crusone bellissima massiccio della Presolana da sud da sud casa degli sci alpinisti veri perché presenta sia a nord che a sud dei percorsi fantastici e sono ancora a te Rino quell'anno lì poi abbiamo avuto una fortuna esagerata perché una settimana prima non avevamo la neve e invece per la Coppa del Mondo siamo riusciti a tenerla tutta sulla sud è stata veramente una manifestazione penso irrepetibile domanda direttissima sostituire presidenti titolati e nominati a tre ciclosone e poi autoreferenziali come pochi come Rino Calegari Osvaldo Lattuada io ne ho in mente uno che si chiama Rino Olmo che lo ricorderò sempre quali problemi ti crea? nessuno? nessuno nessun problema voglio dire anzi cerco di lo dico in italiano leccar giù leccar giù per tal possibile dalle persone che hanno guidato per anni il CAI Rino lo ha guidato hai citato due presidenti che si sono alternati nel corso degli ultimi trent'anni alla guida del CAI dopo il grande Rino Olmo io cerco di dare il meglio e comunque collaborano ancora con il CAI sia Rino sia Osvaldo che hai citato prima per cui tu ti sei accorto di essere il primo non clusonese a essere presidente del CAI o non ti sei accorto? mi sono accorto ma me l'hanno anche detto ah te l'hanno detto figure noi in Baradelli noi in Baradelli siamo siamo Baradelli beh comunque sono dell'alto piano di clusone ci siamo tu sei venuto perché sei il presidente o rappresenti anche lo sci vabbè sei anche uno sci alpinista da piano del termen bravo pistaiolo mi chiamano pistaiolo no io rappresento un bellissimo sci club con tre settori sci nordico sci alpino e lo sci alpinismo che è seguito tutti questi settori sono seguiti da persone molto valide nell'alpinismo in collaborazione c'è sempre ad aiutare il nostro amico Walter Vizinoni che è il fattotum dell'alpinismo dello sci club 13 che non devi far andare in televisione perché lui odia la televisione lui odia la televisione e abbiamo parliamo di sci alpinismo in questo caso abbiamo un 60 tesserati fisi e un 12 15 ragazzini che li sono seguiti da Giannino Trussardi e stanno facendo bene anche nelle gare promozionali ho visto uno in particolare che è di Onetra che è a Carobbio questo qui Carobbio Daniele ha vinto anche domenica al Bosaccia va forte è iniziato proprio da bambino da ragazzino con Giannino e adesso veramente ha dato sta dando i suoi bei frutti qui sembra un tipo da stadio però Rino è vero devo dire che queste immagini sono ancora oggi disponibili si possono vedere sul sito ufficiale dell'ISMF la federazione internazionale di sci alpinismo hanno voluto la nostra la copertina dell'ISMF e ancora la gara di Coppa del Mondo qui a Closone torniamo indietro perché c'eravamo anche nel 1977 quando nasce il rally della Presolana felicissima intuizione e tu sei stato anche perché ricordiamo sempre che il rally della Presolana prima e la schiappa adesso ricorda il cugino di Rino che è la gara Angelo Castelletti che io conobbi molto bene furono anni d'oro anche quelli del rally della Presolana sì sicuramente tu eri più ragazzetto ma avevo i capelli meno bianchi lì adesso e qualche ricciolo in più però vabbè è un piacere ricordare quegli anni lì perché è stato nato nel 77 e quasi con i primi rally a livello nazionale perché in quegli anni lì stavano crescendo queste manifestazioni e si svolgevano in modo particolare c'era un percorso di scialpinismo molto lungo però questi erano percorsi di trasferimento c'erano due prove speciali la prova di salita e la prova di discesa che erano cronometrate questo dava poi la classifica finale il nostro socio Luigi Lazzari ha avuto poi l'idea di ideare appunto la formula Lazzari che è stata utilizzata fino agli ultimi anni dei rally scialpinistici dove funzionava così praticamente il tempo di salita l'hanno sempre capita in pochi quindi se la racconti raccontala il tempo di salita che poteva essere ipotizzato non so 13 minuti mettiamo cronometrati e il tempo di discesa che poteva essere un minuto dico dei numeri a caso il tempo di salita diviso il numero il tempo di discesa dava il fattore 13 diviso 1 13 13 minuti 13 il coefficiente 13 praticamente ogni secondo che tu davi in discesa all'avversario valeva 13 secondi dati in salita avete capito a tutti? non è così semplice però allora ricordo una coppia fortissima a Cruz Unesi Zanoletti Benzoni ricordo una coppia nella quale c'era anche lui Trussardi Calegari mi ricordo e poi più avanti arriva il professore il professore Carlo Filisetti che ha vinto 4 rally della Presonana con 4 soci diversi ha vinto con Giannino Trussardi con Andrea Tomasoni con il direttore di pista di adesso che è Robi Benzoni e poi ha vinto con Zamboni quindi me li ricordo ancora tutti non per niente lo chiamiamo il professore sono stati anni belli c'erano Boscaccia e Murada adesso i nomi sono diversi ma le immagini sono ancora queste cosa è cambiato nello spirito nel rally e lo chiamo ancora rally nella schial allora vabbè c'è stata tutta un'evoluzione adesso le gare sono molto più come dicevo prima nervose molto più tecniche c'è stata un'evoluzione anche nei materiali in tutti i campi e allora c'era un punto percorso di trasferimento dove uno poteva anche rilassarsi un attimo respirare adesso col tuo soggio no perché dovevi arrivare alla prova di discesa per primi perché il compianto Franco Ciuli ti voleva per primo è vero o no? è vero è vero bisognava entrare al cancelletto di discesa almeno nelle prime cinque squadre allora Claudio tu che sei l'uomo delle immagini della fotografia la gente normale quella senza sci da sci alpinismo dove la consigli di andare a vedere la schialta dunque in questa occasione che siamo nelle vicinanze degli impianti di colere consiglierei di andare all'arrivo del allora il parterre il parterre di partenza e di arrivo è al polzone quindi lì possono vedere sia la partenza che l'arrivo che sarà dei primi sarà di lì a un'ora e quaranta 20 km 20 km quindi con poco tempo possono vedersi la partenza e l'arrivo ma sarebbe anche bello vedere i cambi tecnici cioè i cambi pelli dall'assetto di salita a quello di discesa e uno dei più belli è quello in cima bianca dove si arriva con gli impianti per cui ci si potrebbe anche organizzare così si vede la partenza si raggiunge con la seggiovia la cima bianca lì si vedono arrivare transitare e poi si può tornare alla partenza tramite la pista di sci per vedere l'arrivo ricordo che una volta intervistando Murada quindi un nome storico dello sci disse vengo volentieri da voi perché quando organizzano i clusone disse proprio lui perché mi restò in testa siamo sicuri che dal punto organizzativo sarà tutto perfetto però tu Rino ricordaci il percorso come se lo facessimo anche noi si parte dal pozzone si va si parte dal pozzone e si sale sul pizzo di petto quindi prima salita molto veloce sul pizzo di petto per poi scendere a un cambio in fondo alla valconchetta si risale la valconchetta per arrivare nelle vicinanze del nido dell'acqua devi fargli un disegnino a lui perché lui conosce il pian del termine e basta quindi valconchetta queste cose qui lui non le conosce questo è praticamente la parte bassa del Ferrante al nido dell'Aquila ci sarà un tratto nella zona lì dell'Aquila evitando il Ferrante ci sarà un tratto tecnico a piedi dove gli atleti dovranno calzare i ramponi e fare un tratto il più verticale possibile a piedi con i ramponi calzati e scendere lo zaino da lì partiranno in discesa verso la Malga Pagherola giù nella valle del Moschel per poi ripellare tornare su all'Aquila da lì poi partirà una riscesa veramente tecnica e abbastanza insidiosa verso l'Albani il rifugio Albani il muro sotto l'Albani ritornare poi da lì verso gli impianti di colere di polzone un tratto nel bosco molto tecnico in mezzo alle piante e per arrivare poi in fondo allo Schill sotto polzone dove lì partirà l'ultimo sciospinale per arrivare alla cosa fa un direttore di gara in una gara del genere cosa fa sai che io avevo quasi la certezza e il direttore di pista che è Roby Benzoni cosa fa niente anche lui niente anche lui no veramente per noi sono giorni molto tirati perché anche domani mattina partiremo presto per andare a ispezionare alcuni tratti che ci stanno un po' preoccupando e preoccupato anche Battista non devi andare Battista sta fermo non muoverti si fa di tutto il direttore di percorso logicamente si occupa più di percorso e di problematiche inerenti al percorso il direttore di gara spazia un po' dal percorso alla logistica alle tutte le penso che tra gli iscritti avessi Barazziol Dennis Trento Michelino Boscacci Robert Antonioli penso che se avessi questi quattro qui è un mondiale io ci spero ma anche William O'Felli ci mettiamo William O'Felli e Pietro Lanfranchi e Pietro Lanfranchi Pietrone sicuramente lo aspettiamo che sarà da podio anche quest'anno sarà da podio anche quest'anno posso posso farti una domanda visto che mi mettete al 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 ristoro per uno acerbo di questo sport parte presto e ci impiega a fare tutti questi chilometri questo dislivello l'alimentazione una volta c'era il rally c'erano i tavoli con il tè con la porta con la crostata di tutti i tifosi che portavano adesso un atleta che fa quella tipologia di gara qua come fa alimentarsi ti posso dire la domanda è strumentale perché lui ha paura che tu gli dici servono 35 chili di rosby cade per terra a monte spiegaglielo dai diciamo che ogni atleta si alimenta un po' per conto suo in base anche a cose come è abituato ad alimentarsi sul percorso sono comunque distribuiti due barra tre ristori dove uno può prendere anche solo non so del tè della roba da bere oppure della frutta secca delle diciamo che sono ormai gare molto veloci quindi non è che si ristorano più di tanto puntano più al bere ecco di bere molto importante proprio per i muscoli perché altrimenti aumenta l'acido lattico l'artva hanno quasi capito tutti a che cosa serve e speriamo non serva che non hanno capito ancora tutti è il caschetto a doppia omologazione che vorrei che tu spiegassi esattamente che cosa vuol dire un caschetto a doppia omologazione perché mentre prima erano omologati solo per lo scialpinismo però avevano delle caratteristiche più per la salita erano molto simili ai percorsi ai caschetti di ciclismo per capirci adesso invece hanno un'omologazione anche per la discesa quindi sono più protetti dietro la nuca e hanno delle caratteristiche molto simili ai caschi da discesa che usano nelle discesa non possiamo non ricordare chi è stato per anni e da sempre per sempre lo sponsor munifico che si chiama prima Biggio Castelletti e poi la famiglia Castelletti quindi lo zio Biggio poi la Cecilia e tutta la sua sempre sono stati lì dietro di voi in maniera consistente no? Sì sì oltre a essere sponsor sono anche parte proprio dell'organizzazione c'è da dire che Schial 3 è un nome molto unito a comuna veramente si potrebbe dire anche tre grandi famiglie che sono il CAI lo Ciclat 13 e la famiglia Castelletti non è nato per questa idea dello Schial 3 perché era nato per la staffetta che si si faceva con tre concorrenti però ecco mi piace anche questo sinonimo dire sì Schial 3 tre grandi famiglie perché veramente ci sentiamo un'unica famiglia sotto dobbiamo dirlo tre grandi famiglie il CAI la sezione CAI Rino Olmo lo Ciclat 13 uno dei ciclat più titolati e forse tribolati in questo momento ma lo diciamo sorridendo del circuito nazionale e con un perno dobbiamo dirlo Rino Calegari presenza assidua 365 giorni a fare sì che questa rally della Pesola non tempo Schial 3 sia nella continuità una ciliegina sulla torta ci vediamo domenica grazie ci vediamo con tutti voi la prossima puntata buonasera a tutti buonasera